Il nuovo Consiglio Comunale di Pesaro, a guida Andrea Biancani, apre il ciclo di proposte di deliberazione consigliare del mandato 2024-2029 con la presentazione di quelle che saranno le linee programmatiche che dovranno fungere da faro guida per l'amministrazione nei confronti della città pesarese. Sono sette i punti in cui Biancani suddivide quest'ultime che vanno a rispecchiare temi ed obiettivi già trattati nel suo programma elettorale. Oggi sono presentate e presentate le linee programmatiche, ho evidenziato quello che avevo già evidenziato durante la campagna elettorale, ha sicuramente un'attenzione particolare rispetto a tutte le persone più fragili, nella città di Pesaro vorrei che nessuno si sentisse indietro o comunque che con difficoltà che non vengono affrontate. Dall'altra parte ho ribadito la volontà di proseguire gli investimenti sulle politiche educative, ovviamente non riusciremo in un anno a dare risposta alle 140 famiglie che tendono di avere una risposta soprattutto nei niri, ma continueremo a investire, non faremo tagli sulle politiche educative. L'altro obiettivo è riuscire a chiudere tutti gli investimenti che abbiamo ottenuto di oltre 150 milioni di euro dai fondi PNRR, tutti i cantieri stanno partendo, l'obiettivo è completarli in tempi previsti. C'è il tema di sicuramente trovare più risorse, l'abbiamo fatto anche oggi con la protezione di bilancio, risorse aumentate per la manutenzione delle scuole, per la manutenzione dei giardini, per la manutenzione degli impiadi sportivi. Dall'altra parte ho ribadito la necessità di implementare gli investimenti sulla sicurezza, abbiamo già installato delle nuove telecamere, abbiamo partecipato a un bando nazionale per poter installare ulteriori telecamere. Abbiamo detto che tutto quello che si occupa di turismo, di cultura, il nostro obiettivo è far sì che Pesaro sia sempre più europea, sempre più nazionale e internazionale, con l'obiettivo di aprire, e lo stiamo facendo, tutti quelli che sono i beni culturali che abbiamo in città, con l'obiettivo anche di aprire Rocca Costanza sia ai turisti che ai cittadini pesaresi. Ho cercato di fare una sintesi, ma con l'obiettivo, con una parola d'ordine, che è quella che vogliamo una città sempre più bella, sempre più vivibile, una città solidale, una città dove i cittadini devono avere il piacere di venire a vivere. Grazie a tutti.